Ah, qui te lo fanno vedere proprio esplicitamente Oddio, gli sta cambiando le identità Qua te lo fanno vedere esplicitamente Cioè, tu prima che lo scopri chi è in realtà Kite Passa un bel po' Minchia Eh, Tseng la s'allunga Qua te lo scopri chi è in realtà 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 Quan si è ferma Qua te lo scopri chi è in realtà Non, mai… Alla prossima Cosa? Quindi non è veramente Glenn, è una rappresentazione di Glenn. Oddio, ma è Genova? Perché Genova si trasforma in tutto ciò che noi amiamo, desideriamo, odiamo. Infatti non sono frasi da Glenn queste. Eh, l'ho detto subito che non erano frasi da Glenn. Lui ovviamente sparisce così come i Numen, no? Perché giustamente come i Numen. Però questi giochi di manipolazione sono identificativi in Genova, non nei Numen. Perché i Numen proteggono la timeline. Ah, ok, qui ora sono con Zack. I Numen proteggono la timeline, mentre invece questo è più un atteggiamento da Genova. Che cerca di spingere sulle tue paure. Oh, caccia all'uomo. Eh, lui ovviamente senza meno. Oh, oddio. I piegamenti. Beh, quanta attenzione su di me si riferisce al fatto che comunque Rufus pensa che il tutto sia orchestrato come era orchestrato con il padre. Solo che il padre, a differenza di Rufus, aveva più manovra di movimento. Perché comunque il padre, il vecchio presidente, agiva in maniera diversa. Mentre invece Rufus è molto più concentrato su quello che è il suo obiettivo. Quindi lui dice questa attenzione su di me, nel senso come se stesse sbagliando, comunque come se effettivamente stesse facendo qualcosa di sbagliato, ma in realtà diciamo che è tutto rientrato nel piano. E Genova può prendere le sembianze di chiunque. Genova può prendere le sembianze di chiunque. Perché è in grado di... Perché Genova è in grado di leggere la tua mente, sconvolgerla. È un po' come Voldemort. Che ti legge la mente, te la sconvolge, ti fa vedere le cose che non vuoi vedere. E poi gioca ovviamente sulle tue debolezze, gioca sulle tue... Sulle tue paure. Come sta facendo con Cloud? Perché proprio Glenn? Perché Rufus l'ha ucciso. Si è visto nel flashback che Rufus l'ha ucciso alle spalle, Glenn. Perché probabilmente, essendo che Glenn collaborava con Butai, era un suo nemico. Era un suo avversario. E Rufus l'ha ucciso. E ora è come se... Ovviamente il suo spirito gli stia in un qualche modo... Non dico si stia vendicando. Ma è come se lui avesse questo pensiero costante di Glenn. E ovviamente si saprà, penso, il perché poi più avanti. O comunque ci sarà un altro collegamento. Noi abbiamo visto soltanto lui che gli spara alle spalle. Ma ci sarà qualcosa dietro. Si è visto quando hanno parlato a Junon. Quando hanno parlato la prima volta a Junon, si è visto Glenn incappucciato e Rufus che gli ha sparato di spalle. E Glenn incappucciato, tra l'altro, era lo stesso Glenn che ha incontrato Sefirot a Butai. Madonna, Zacca è veramente così a sprazzi. Perché proprio dura pochissimo l'interazione di Zacca. Loro, quando hanno parlato a Junon la prima volta, si è visto il flashback. Eh, purtroppo no, non c'è stata la possibilità. Noi, non c'è stata la prima volta a Junon. E quindi visto che guardarmo, la prima volta a Junon. E che risposta la prima volta a Junon. E attraverso a Junon a vicino aavat e non c'è stata la prima volta. Noi, mentre io sono sempre conosciata. Si? Carletti in ginocchio Mi aggrego anche io E' un'esercizio E' un'esercizio E' un'esercizio E' un'esercizio O... 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 Ma... o... 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 Tommolo, tommolo Ah... tro... 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 Poi... tro... 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 Ah... Er... C'è... Do... Do... C'è un po' di questo? C'è un po' di questo? C'è un po' di questo? Non è così! Grazie a tutti. 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 In che ci sono nuovi incarichi a Corel. Madonna. E qua devo fare tutto ciò che c'è di secondario. Ah, li raccoglio automaticamente. Ciao ragazzi a tutti. E' bello se potevo investire anche se potevo investirli anche in frattempo. Allora, ecco, come potete notare già ci sono qua un sacco di robe. Allora, le torri le voglio andare ad attivare. Almeno le torri le voglio attivare. Poi le side quest e tutto il resto magari me le faccio io per i fatti miei, però almeno le torri le voglio attivare. A me piace sto mazzo perché è bello perché si potenziano le carte così. Si potenzia di uno con il posizionamento di carte avversarie. Però costa 3, oddio. Ah, un'altra visione del giocatore di carte. C'è la lore anche nel gioco di carte, fighissima. C'è la lore anche nel gioco di carte. Oh no, anche lui mi sta chiamando. Quindi anche lui è, oddio. Anche lui? C'è la carta Genova. C'è la carta Genova. Beh, potrebbe tranquillamente essere una cosa a parte. Però io sono aumentato di rango. Guardalo, Kite è piccolino. Ma che cos'è una boss fighter? Ah, guardalo. Vedi, noi stiamo facendo il set Genji. Sono sicuro. Ma che cos'è? Grazie a tutti Grazie a tutti Non è un problema Vabbè dice Gongaga Non è un problema Ah è qui dove incontriamo Sisney Ecco vedi lui ora dice Giustamente Esper cuciata Ah cuciata è qui Ci sono nuovi incarichi a Gongaga Oh porco Oddio Vedi si c'è tutta la zona di esplorazione di Gongaga Quindi si avevo ragione Oh merda Madonna quindi manco il tempo che finisco Corel Posso fare subito Gongaga E cuciata l'hanno messa qua Anche a cuciata l'hanno messa su Gongaga Scusa allora Intanto c'è anche Pucciata che posso sconfiggere adesso con Cioè sarebbe bello poi Vabbè La farò per conto mio La battaglia con l'esper E poi La includerò comunque All'interno dei video Come ho fatto già anche con Con le altre Sam Vabbè Oddio hanno fatto quella host A tema proprio tipo Selvaggio Ma qui in teoria Se arriviamo a Gongaga dovremmo Scontrarci contro i Turks Qua in realtà dovrebbero esserci Reno e Rude che ci aspettano Cazzo ho fatto Cazzo ho fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Vedi che bello il fatto che la mappa si può esplorare Eh vedi funghi Quindi non si riferiva alla forma del reattore Si riferiva proprio al fatto che qui ci sono dei veri e propri funghi Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ah qua ci sono i giocobo Ma io il giocobo ce l'ho qua no Perché lo devo catturare Quindi Oh Dovrò catturare il giocobo qua Eh lì c'è una materia Tra l'altro la materia blu Materia blu È una materia forte Sono curioso di vedere Seasony Eccoci Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Sì, sono un po' di riuscire. Ma certo, lei lo conosce, mi sa. Eh, vedi, lo spostamento rapido non è più disponibile. Qua c'è una parte, diciamo... Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Certo, Yuffie non ha le stesse tradizioni. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Eh, non gli sta dicendo niente, però. C'è un nuovo giocatore di Regina Rossa Gongaga. Ah, posso parlare con gli altri, però, vedi? C'ho i dialoghi. Penso che siano questi. Dal colore. Sugarhead. Io col mio naso le riconosco. Eh, io pure. A chiacchiappolo. Oh no, risposta sbagliata. Vabbè, tanto la devo rifare sta parte, chi se ne frega. Ah, c'è anche... Oddio, c'è anche il pianoforte. Cioè, ma questo qua che è a casa della gente? Io dico, scusami. Cioè, Pia Sonar qui, cioè, tu abiti qua. Cioè, io non capisco, cioè, tu arrivi qua, ti piazzi a casa dove c'è qualcuno con un pianoforte. Va, post, fine. Così si gioca. Senza pietà. Proprio così. Senza... Senza la minima possibilità di... Di remissione di peccato. Te, torna le tue vacchie. Basta. Vai via. Sono troppo forte per te. Allora, andiamo a vedere dove sono anche gli altri. Chi dovrebbe esserci? Barrett... Ah, c'è Eris. Ah, Eris che sta andando dai genitori di Zack. Giustamente. Oddio, c'è il tizio delle fotografie pure qua. Ah, c'è un altro giocatore di... di Regine Rossa. Esplora meglio il villaggio. Qui c'è Chad, lei. Il Chad. Qui c'è il tizio delle foto. Il tizio delle foto. Dimmi dove... dove devo andare a vedere sto punto fotografico. Oddio. Ma che foto sta facendo però? Si è messo... a forma di... di fungo. Minchia, là sotto. Poi qua ci sono le side quest. Poi ce ne sarei... Quante ce n'è una sola? Vabbè, tanto poi... io tutta sta zona la devo rifare. Quindi è inutile che mi metto di impegno. Ero 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 architipiare o che... Ero ero architipiare. Ero ero architipiare. Ero ero architipiare. Ero architipiare. Ma... Cosa... Iñigo a rispondere. Vabbè... Cosa? E' bello. Io tutto la risposta completamente a caso. Allora Andiamoci a fare quest'altra partita Visto che io comunque voglio farmi Un'altra bella partitella Da qua giusto si E poi andiamo Minchia Guarda come mi ha inchiaffettato Vabbè dai non conclude niente Minco io comunque Però bella partita questa Mi stava quasi inchiappettando Mi stava quasi inchiappettando Sovrapponibile a una carta alleata Potenzia le alleate nelle caselle interessate In base alla potenza della carta fatta sparire Minchia Questa è buona Tra l'altro vedi è sovrapponibile Questa è veramente buona Questa è veramente buona Questa è veramente veramente buona È veramente veramente buona Va bene Andiamo a vedere Cosa sta combinando Che noi già sappiamo Cosa sta combinando la nostra Eris Però Vediamo se mettono Qualche dettaglio in più O qualcosa Chissà se Cloud Chissà se Cloud ora tipo li riconosce Perché giustamente magari Ah entri così Senza neanche bussare Ci assomiglia il padre di Zack Però Si è sentito il nome Zack però Ehm Cosa sta combinando la nostra Questa è la cosa Zacks 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 Grazie a tutti. 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 Buono che tu sei già impegnato. Grazie a tutti. 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 Ah no, qui non me lo fa affittare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.